Stefano Collantuono l'aveva detto in fase di presentazione della partita, non firmo per il pareggio, non ci accontentiamo del pareggio. No, onestamente non è che avevo detto proprio così, poi a volte le frasi vengono travisate. Io avevo soltanto detto che noi non siamo una squadra che può fare calcoli e non possiamo partire a priori per pareggiare, che sennò perderemo. No, noi ce la dobbiamo provare a giocare, sperando di fare una buona gara come abbiamo fatto per poi vedere cosa saremo riusciti a portare a casa. E stasera siamo riusciti a portarci a casa una vittoria. E forse magari anche qualcosa di più di una buona gara. Sì, una buona gara, una bella vittoria, abbiamo giocato molto bene, sono molto contento, ci mancherebbe. Però lo sai, io cerco sempre di tenere i toni bassi perché il campionato è ancora lungo e dobbiamo tenere veramente il profilo molto molto basso. Poi andando avanti, se riusciremo a proseguire su questo trend ci potremo togliere delle soddisfazioni. Però mi sa che questa squadra concreta, determinata, qualità, gioco, insomma, sta regalando belle soddisfazioni. Magari c'è stata questa partenza, la prima di campionato con la Lazio, poi si è ripresa, poi le tre sconfitte consecutive. Però è una squadra che ha grande carattere, grande determinazione. Beh, direi di sì, insomma, l'ha dimostrato. Stiamo facendo un gran bel primo, quante berti abbiamo fatto? Siamo a un terzo, credo, quindi direi molto bene, direi. No, sono contento, cosa dire? Sono contento, guarda, più che altro per la gente, perché quest'anno, come l'anno scorso, si stanno divertendo, credo. Stiamo dando delle belle soddisfazioni, oggi erano tantissimi, quindi sono contento per loro, guarda, perché se lo meritano, ci fanno sentire un grande sostegno. E' emozionante arrivare allo Stadion Pulma e trovare tutti questi fuori che ci incitano, guarda, veramente sono molto contento per loro, più che altro. E per il Presidente e la società, che fanno tanti sacrifici. E anche per Stefano Colantuono, perché se lo merita, lui non lo dice, lo diciamo noi. Riuscirà il mister questa notte a scaricare la tensione, l'adrenalina? Quando si gioca la sera non si dorme mai. Domani, ci penseremo domani. Domani riposeremo meglio.